Il supporto Aruba Business è strutturato per fornire assistenza di secondo livello tramite telefono, chat e ticket, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. L'assistenza telefonica di primo livello per la raccolta delle criticità è disponibile al di fuori di questi orari per garantire la copertura H24 tutti i giorni dell'anno. All'interno del tuo pannello di gestione, in alto sulla destra, trovi il numero di assistenza a te dedicato, mentre nel menu Assistenza, alla voce Contatti, sono indicati gli interni da contattare a seconda della necessità. Interno 1. Ufficio commerciale per preventivi sui servizi e per informazioni commerciali. Interno 2. Registrazione domini e PEC. Interno 3. È l'ufficio dedicato a tutte quelle che sono le procedure di registrazione e trasferimento di nomi di dominio e alle problematiche relative al servizio di posta elettronica certificata. Interno 3. Fornisce assistenza tecnica su hosting condiviso, server dedicati e cloud, a partire dall'assistenza applicativa fino a quella sistemistica. Interno 4. Per assistenza contabile ed amministrativa. Interno 4. Tornando all'interno del menu Assistenza, è possibile cliccare su Richieste assistenza. Sarà possibile vedere tutte le richieste di assistenza, quelle eventualmente aperte, più tutte quelle chiuse, ed aprire un nuovo ticket. Nell'apertura del ticket, ti viene richiesto di scegliere una categoria, indicare l'oggetto della richiesta ed infine il testo descrittivo. Cliccando su Invia, viene aperto il ticket che sarà preso in gestione dal personale del supporto tecnico. In qualunque momento, è possibile utilizzare la chat per chiedere assistenza. È necessario scegliere una categoria, ad esempio Assistenza hosting e cloud, la lingua, e poi indicare quale topic è riferito alla richiesta di chat.